Barbara Streisand Ciao a tutti amici Softgunner Quinta puntata di Wannabe Bumblebee stagione 2 Stiamo andando avanti solo per merito vostro Grazie del sostegno, dei pollici su, dei commenti Oggi Bumble è in piedi perché vediamo un suo tattico Oggi parliamo di questo LBV Colorazione OD Quindi Bumble parlaci un po' di questo tattico Che non riesci ad allacciare perché hai mangiato troppo Esatto, allora parto col dire che questo è un tattico per assalto Cioè è leggerissimo, non pesa niente Ci sono 4 tasche portacaricatori, 2 portagranate e altre 2 supplementari Che sono andato ad aggiungere con il cinturone Quindi è proprio solo per l'assalto Non c'è né camelback né niente E' molto semplice, leggero Esatto Il minimo indispensabile, senza troppi fronzoli Esatto, quindi per chi corre eccetera Cecchini anche, va molto bene per i cecchini Perché non avete alcun tipo di peso dietro Ve lo consiglio perché davvero Veramente ragazzi non pesa nulla Vediamo che qua abbiamo due bei spallacci imbottiti Credo che sia comodo Sì, no, 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 è molto comodo anche sulle spalle Dovrebbe scaricare bene il peso Anche il fatto di avere questo cinturone Che va bene, adesso non allacci perché è configurato per la tua ragazza Esatto Scarica molto il peso, quindi a parte che poca roba puoi portarti Quindi il peso già è ridotto di suo Però deve essere veramente comodo Questo io lo consiglierei molto in urbano Cioè per muovervi veramente veloci Io lo consiglierei in urbano Anche perché lascia un ottimo movimento delle braccia Avendo praticamente tutto libero E non come un ciras che vi copre Vi offusca un po' in movimento Assolutamente, assolutamente Quindi il minimo indispensabile Secondo me è anche ottimo per tornei di breve durata Perché al limite vi aggiungete uno zainetto Con dentro quattro cose Ma va bene Essenzialmente i quattro caricatori Le tasche porta caricatori ci sono Quindi al massimo potete aggiungere una tasca dietro Per i caricatori esausti Però già, mettiti un attimo di lato Per favore faccia vedere che hai aggiunto Due porta utility Quindi comunque non è che non ci stia nulla Su questo sistema di tattico Perché la capacità di carico è buona E il peso è ben distribuito Assolutamente Il prezzo indicativo lo sai di questo tattico? Guarda, io questo personalmente l'ho pagato 20 euro Quindi spesa totalmente irrisoria Per un tattico che potete utilizzare in vari ambiti Quindi costo inferiore al modello Sudafrica Secondo me è molto più bello E molto più comodo che non in Sudafrica Che ha mille tasche Ma mal distribuite Insomma è un po' una cagata Questo invece rende molto di più Completamente adattabile Quindi potete tranquillamente andarlo a stringere Allargare a seconda della vostra misura Da una XS a una XXL Esatto Tutte le misure Esattamente Perfetto Bene ragazzi Questo quinto video si conclude Grazie a tutti per la visione Vi preannunciamo che nel sesto video Vedremo un fucile d'assalto Quindi ritorniamo con le armi primarie E non mi resta che invitarvi a commentare Condividere Polliciare questo video Grazie a tutti per la visione E Bumble alla prossima Grazie ragazzi Ciao